E' venuto qui a discutere insomma dei problemi interni al movimento dopo quello che è successo per i suoi rinari? No, ci siamo parlati di diverse situazioni, tra cui anche quelle del prossimo Consiglio dei Ministri e gli argomenti che dobbiamo mettere in fila anche nel calendario del prossimo mese che è convocato per giovedì. Però sia Conte che Di Maio hanno parlato di un chiarimento interno al partito. Cioè devo andare... Non fermare la soluzione politica di cui stiamo parlando. Va bene. In siccome entrambi si è Conte che Di Maio hanno parlato di un chiarimento interno. Io ho risposto chiaramente che ho andato a parlare con il Presidente di diverse questioni, per cui ovviamente può essere chiaro scusa. Ho detto le modalità, i chiarimenti si troveranno sicuramente gli spazi e i modi per poterli fare. Ma è vero che c'è stato un strappo all'interno del movimento di un interno? Quindi ho già risposto. C'è stato una giornata. Grazie.